Sfida di verbi. Io ti dico il verbo all'infinito e tu lo coniughi nel modo, nel tempo e nella persona indicati. Indicativo trapassato remoto di bere, seconda persona plurale. Voi aveste bevuto. Indicativo trapassato prossimo di diffondere, seconda persona plurale. Voi avevate diffuso. Condizionale presente di procrastinare, prima persona plurale. Noi procrastineremmo. Futuro anteriore di percorrere, prima persona plurale. Noi avremo percorso. Quante ne ha indovinate? Fammelo sapere nei commenti.